Ciao, vi senti? Sì, sì. Sì, ti insegno. Sì, e hai tradotto anche, recentemente, hai tradotto Giovanni Pascoli in inglese. Esatto, sì, è uscito in ottobre. A ottobre. A ottobre, sì. Di lei sono usciti, allora, c'è questo primo libro che si intitolava in inglese, si intitola Houses are Fields e è stato tradotto anche in italiano. Le case sono campi, è stato tradotto da Houses. Sì, di questo primo libro abbiamo, insomma, se ne è parato molto, è andato molto bene. E' un libro molto bello, secondo me, è stato tradotto anche in italiano. E' un libro che affronta il tema della morte della madre, ma con una ricchezza di vocabolario, di strutture, di soluzioni espressive, è veramente molto, molto ricco. E' anche un libro che ha una struttura, che ha un andamento spesso narrativo, perché appunto racconta molto, usa molto il verso lungo, che è nella tradizione ovviamente della poesia americana, ma lo fa veramente con grande ricchezza, con grande, mi viene da dire, pathos, cioè in maniera veramente molto coinvolgente. E poi abbiamo, poi adesso sta lavorando ad un libro nuovo, che si intitola? Come si intitola il libro nuovo? L'italiano sarebbe forse ora potete raggiungere gli altri, o anche ora puoi raggiungere gli altri, più ora puoi raggiungere gli altri. Ok, so now you can join the others. Adesso sono ricordato il titolo inglese, abbiamo tradotto qualche poesia per la nostra rivista per il verso dove, che è un libro molto, ovviamente molto diverso, anche perché la cosa che, una delle cose che mi colpisce di Teje è la lentezza con cui lavora, perché appunto questo libro, il primo è uscito, mi pare, nel 2009. Esatto, esatto. E adesso siamo nel 2020, quindi ha lavorato più o meno una decina d'anni e da dieci anni, forse, in maniera continua, si lavora in maniera lentissima in realtà. Quindi anche questo in realtà ti volevo chiedere perché è una cosa che io trovo molto interessante, perché essendo invece io cercando di fare le cose, provo molta ammirazione per chi lavora lentamente. E quindi è come se tu lasciassi sedimentare, riposare le cose che scrivi, quindi ti volevo chiedere questo. Questo libro, stavo dicendo questo libro nuovo, di cui ho letto dei pezzi, è un libro appunto molto diverso ma molto interessante perché racconta, anche lì, racconta cose diverse, dalla vita familiare, ai viaggi, alla memoria, perché comunque il tema portante, il tuo tema principale è probabilmente quello della memoria. Poi c'è una cosa, questo libro è anche molto sulla traduzione, intesa anche come traduzione di se stessi, perché oggi leggevo un'intervista in cui tu dicevi che essere sradicati è la fonte, la cosa da cui deriva la poesia. Nel senso che senza di quello non c'è poesia, quindi se tu sei, ti senti al tuo posto, in realtà non scrivi. Molte poesie sono, molte poesie del libro nuovo sono per esempio sulla traduzione, vero? C'è la traduzione anche nel senso che ci sono delle parole, c'è la traduzione, c'è la spiegazione di alcune differenze tra l'inglese e l'italiano, ci sono appunto proprio delle vere e proprie spiegazioni della traduzione. Adesso l'ho detto male, però dopo leggiamo questa poesia che mi piace molto, che si intitola Lingua, dove questo fenomeno è molto evidente. Quindi intanto ti volevo chiedere questa cosa qui, intanto ti volevo chiedere appunto come lavori, che lo trovo molto interessante, e poi ti volevo chiedere appunto la traduzione, cioè il sentirsi, perché in un certo senso tu ti senti, come dire, tra due posti, perché poi passi anche molto tempo in Italia, per cui è come se fossi tra, no? Tra un luogo e l'altro, tra un tempo e l'altro. Rispondo? Sì, rispondi. Grazie, grazie per quello che hai detto, molto bello, grazie del libro. Provo a rispondere alla prima domanda, sono lenta, sono proprio, si dice per natura, per natura sono lenta, da sempre. Sai che da piccola ero così lenta che i genitori e i loro amici hanno inventato un verbo, tèj, 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 tèjin, e quando una persona si muove in un certo modo significa che tèj, che loro tèj, stop tèjin, non so come si dice in italiano, però io e il mio nome era un verbo, cioè il verbo che significava essere troppo lento, essere così lento, impossibilmente lento. Quindi non è solo per la poesia, è proprio per natura e poi, che significa anche pigra, sono pigrissima e per me è un pregio, è una cosa bella essere pigra. Un modo di godere la vita e seguo un po' il consiglio di Keats, il poeta inglese che ha scritto anche dell'importanza, dell'epigrizia per l'indolenza. Lui l'ha chiamato indolence, che sarebbe forse indolenza, non lo so, in italiano, che è fondamentale per l'immaginazione, che dobbiamo fermarci per mettere uno spazio più ampio in cui si può entrare qualsiasi cosa. Ma in realtà è tutta una scusa per l'epigrizia, è tutta una scusa. No, è quello che dice, no, è quello che dice, no, emotions, poetry is emotions recollected in tranquillity, no? Sì, lo diceva lui, per me non, non, come si dice, recollect? Io non ricordo, non porto niente in tranquillity, quando mi sento qualcosa, quando sento qualcosa lo sento in un modo estremo, sempre, non sono così da Wordsworth in quel senso. Ok, sei più kids. Più kids, magari, magari. Sono pigra, sono pigra. È tutta una scusa per la pigrizia, ma forse la risposta più vera è il fatto che ho finito quel libro sulla morte della madre e ero un po' chiuso dentro un lutto, anche per un bel po' di tempo. E c'erano delle ecco, si dice ecco? C'erano delle ecco, delle ecco, del lutto che mi tornavano per anni. E quando ho provato a scrivere ho scritto solo sul lutto. Che era una cosa un po' un ecco, un ecco della cosa. Però la cosa, scusami se ti interrompo, la cosa interessante secondo me invece di questo libro è che, nonostante sia un libro sul lutto, stiamo parlando sempre del primo libro, è comunque un libro estremamente pieno di gioia. Io mi ricordo ancora una tua lettura a Bologna, all'Ambasciatori, dove hai letto questa poesia su Maldestam, che era parte meravigliosa, ma era anche una poesia piena veramente di una gioia di vivere, una roba, veramente una sensazione di estrema vitalità. Cioè è proprio, è un libro pieno di vita, che è una cosa non trascurabile secondo me. Ma in realtà, in mesi o forse anche gli anni in cui era ammalata mia madre, erano mesi o erano anche anni bellissimi, perché siamo stati tutti insieme in famiglia, in casa, così coscienti della vita e del dono della vita, del fatto che era ancora viva lei. Lei è così cosciente di essere viva, lei è così presente con noi e ogni giorno avevo l'occasione di passare ore con lei al letto, sul retro, in giardino, nei parchi del paesino. Abbiamo riso, abbiamo chiacchierato di tutto, abbiamo mangiato tantissime torte, tantissimi cioccolati. Era prezioso, tutto quel tempo sembrava... It was like being inside of a treasure chest all the time and staring at all the jewels in our hands, like having our hands just drip with jewels and then having all these jewels just surrounding us and yet we were inside of it constantly. Quindi eravamo costantemente dentro un baule pieno di tesori, se mi spiego. Quindi non era una cosa... non era un'epoca triste, ha rotto il cuore, però... Ora guardo quel tempo come un tempo sacro, anche un po' come ora che è pieno di ansia, pieno di... Siamo tutti così isolati ma stare così con la famiglia, con la presenza, col fatto che la morte è un po' vicino, più vicino che prima, ma noi siamo fortunatissimi e ogni giorno possiamo cenare insieme con le facce degli amati. Quindi è un po'... Non è difficile, non direi che è difficile la parola giusta. No, non è difficile, impegnativo. Sì, strano. Strano. Insolito anche, strano. È nuovo, è proprio nuovo. Cioè anche difficile, ma anche lutto, come lutto pieno di gioia, che i sentimenti sono... vogliono rompere con contraddizioni che... che vivono dentro. Ok. That are feeling a break open with the contradictions that live inside of them. Sai cosa intendo? Sì. Ok. Non riesco a dirlo in italiano, però è così, è sempre così in realtà. È bello essere cosciente di quel fatto. Sì. 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 Sì.